Dopo un anno di pausa per il Covid, torna in piazza Santa Maria la dodicesima edizione della festa dell'olio nuovo di Cerveteri. L'evento anche quest'anno si articolerà su due giorni, con inizio del pomeriggio di sabato 4 dicembre e come da tradizione per l'intera giornata di domenica 5. Il territorio etrusco, grazie alle cure agronomiche degli olivicoltori, anche quest'anno continua ad esprimere l'ottimo livello qualitativo di olio extravergine di oliva che in occasione della festa i produttori avranno il piacere di farlo degustare ai visitatori. La manifestazione, come consuetudine, ospiterà seminari e conferenze curate da esperti del settore, aperti ai professionisti e curiosi e verterà su temi riguardanti l'olio extravergine di oliva e più in generale sul benessere alimentare. Iniziative promosse dall'associazione Olio Evo e dall'assessorato all'agricoltura del comune di Cerveteri. Non mancheranno momenti di musica e di intrattenimento per rendere ancora più piacevole la festa dell'olio a Cerveteri.